Le matrici fermentate sono dei cibi che vengono fermentati con dei batteri. Cosa significa? Che quando il batterio per la propria crescita utilizza parte dei nutrienti che sono associati al cibo e contemporaneamente ne crea dei nuovi metaboliti che poi possono avere delle attività sul nostro sistema immunitario. Noi abbiamo osservato che i postbiotici, soprattutto dell'autobacillus paracase e CBL74, hanno un'attività antinfiammatoria. Cioè quando il nostro sistema immunitario viene aggredito risponde con una risposta infiammatoria. Questa risposta infiammatoria in parte può essere positiva ma per il più delle volte è una risposta negativa per il nostro organismo che può creare danno tessutale. I postbiotici abbiamo visto che sono in grado di limitare l'induzione di questa risposta infiammatoria e inoltre anche di proteggere dalle infezioni perché creano una specie di barriera protettiva sulle mucose che sono quelle esposte ai batteri che non permette l'ingresso di batteri patogeni e quindi in qualche modo protegge le mucose dagli agenti infettivi.